Ancora in aumento i contagi da coronavirus a Bitonto. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Prefettura, i nostri concittadini attualmente positivi sarebbero 31. Un dato che stride con quello riportato dai bollettini diramati giornalmente dalla Regione. La mappa dei contagi vede la nostra città infatti nella fascia superiore ai 51 casi. Di salineamento che il sindaco Michele Abaticchio ha promesso di segnalare alla Direzione Sanitaria. Oggi sono stati effettuati dei controlli in punti caldi della città in merito all'utilizzo delle mascherine e potenziato il sistema audio per le pattuglie in giro, ha scritto sulla sua pagina Facebook il nostro primo cittadino, preoccupato per l'imminente arrivo dell'inverno. Evitate le occasioni di inutile assembramento, mantenete le distanze anche con parenti non conviventi. Importante sarà rispettare le indicazioni fornite dal Governo. Il DPCM di ottobre infatti impone di proteggere naso e bocca anche all'aperto e in qualsiasi fascia oraria, salvo che non ci si trovi in una zona completamente isolata. Esenti dall'obbligo solo i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con gravi problemi respiratori. Per i trasgressori previste multe fino a 1000 euro.